eccoci a romix a padiglione 7 il giorno prima quindi tutto in pieno lavoro il nostro stand sta eccoci a romix secondo giorno vi faccio vedere un po' il mio stand sono i peluche qui ci sono i mini lego qui c'è pushy qua ci sono gli squishy c'è anche il kibru la pesca l'espac i peluche della muse le gommine e qui c'è la parte kawaii e giappo le bamboline dei gorgeous e qui c'è tutta la parte con i pokemon i cubazzetti le valli vogue ball e gli hokai di qua invece c'è la parte ragazze con bel deco frenzi shopkins le minis la casa di yokai super pijamini e i costumi dei pokemon e poi qua ancora peluche ecco qua il nostro stendino è finito e anzi vi faccio vedere le ultime cose sia tutte quante le collane le collane e quelle singole e le collane dell'amicizia eccole qua se passate a romix venite a trovare la stenda di babu ciao buongiorno si avvicina il romix e vi voglio far vedere una cosa che sto preparando per lo stand mi è venuto in mente visto che ho tantissime cose kawaii e cose carine di fare una piccola pesca sorpresa in cui mettere delle cose molto carine a un prezzo basso insomma e volevo far vedere appunto le bustine che ho preso e quello che ci metterò dentro così magari voi votate nei commenti qual è la vostra blind bag diciamo la vostra lucky bag preferita allora le bustine sono così e questa è quella che ho pensato per la linea bijou poi c'è questa così ho questa un po' più grande thank you e ho queste qui colorate e i temi principalmente sono kawaii e nei kawaii ci saranno queste decorazioni in pisla che diventano anche delle pinne delle spillette per lo zaino o per la borsa degli squishy carinissimi tra l'altro guardate che spettacolo questo guardate quanto è carino lui ve lo faccio vedere anche poi tra l'altro ecco guardate morbidissimissimo e lentissimo e poi ci saranno anche le decorazioni in resina da attaccare dove uno vuole le gommine eccole qui e la linea friendship ah no aspettate scusatemi la linea fashion quindi bracciali, braccialettini come se piovessero e la linea amicizia con questi che sono praticamente nella bustina si trovano due ciondoli con due collane diverse e la scritta best friend ci sono questi a cuoricino così oppure questi qua guardate che carini ecco li qua guardate con il cuoricino tutti e due best friend ecco qui adesso io e Lara ah c'è anche questo che vi dico che è una cosa carinissima che è una queste applicazioni sono cuoricino fiorellina e altro hanno dietro il velcro e quindi si possono attaccare sui capelli uno fa la coda poi ci appoggia questo e rimane lì come una molletta bene adesso mi incarto tutto quanto e tra un po' si porta al romix prossimo weekend 6, 7, 8 e 9 aprile venite tutti quanti alla fiera di Roma intanto vi saluto un bacio a tutti a tutti